Buongiorno, sono le sette, il momento della rassegna stampa dei giornali, oggi venerdì 16 ottobre. Allora, naturalmente si parla molto di contagi, si parla molto di virus, le aperture sono tutte quante dedicate a questo argomento, ieri sono stati 8 mila, anzi più di 8 mila, 800 i casi registrati, 83 le vittime, quasi il doppio rispetto al giorno precedente e sono stati, come si dice, processati però anche 163 mila tamponi, un numero veramente alto, forse il più alto da quando è iniziata l'epidemia. Allora andiamo subito a vedere, cerchiamo di entrare meglio nel dettaglio per capire quella giornata che si è vissuta perché ci sono prospettive, toni allarmistici e non, insomma dobbiamo vedere comunque nelle prossime settimane con cosa confrontarci. Allora partiamo dal Corriere della Sera che pubblica in apertura i dati, proprio il titolo soprattutto, sui contagi verso il coprifuoco. I nuovi casi ieri sono stati 8 mila, 804 qui nell'occhiello, raddoppiano le vittime, Londra impone la quarantena a chi arriva dall'Italia e poi sono ipotesi, questo è lo studio, tutti a casa alle 22, dovrebbe essere anche tra le ipotesi quella di chiudere anche gli esercizi commerciali alle 22. E poi la Campania però, il governatore De Luca suscitando polemiche soprattutto con la ministra dell'istruzione Azzolino ha deciso la chiusura fino al 30 di ottobre delle scuole. E poi Milano preoccupa la situazione di Lombardia, l'indice RT oltre 2. E andiamo a vedere però sempre parlando di coronavirus. Anche Pellegrini e Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Valentino Rossi, le lacrime per il virus sono risultati positivi al virus. Beppe Severnini si pone tre domande senza però una risposta, questo è il titolo del suo commento, dice qual è il confine tra allarme e allarmismo? Che differenza passa tra avvertire e spaventare? È difficile dare una risposta a queste domande anche perché pochi se le sono poste, eppure quello che sta accadendo è evidente, l'arrivo della seconda ondata e l'incertezza sull'evoluzione della pandemia stanno provocando una ripetizione di quanto era avvenuto in primavera. Resto un momento ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera perché è scomparsa l'altra notte Iole Santelli, era la Presidente della Regione Calabria, è stata la prima donna a ricoprire questo incarico. Vedete il titolo, addio a Santelli, la governatrice che sfidava la paura. E poi qui una condanna per quanto riguarda Monte Paschi Siena, Profumo e Viola sono stati condannati a sei anni. Vediamo la Repubblica, primi lockdown, tocca alla scuola, la svolta De Luca, come vi dicevo il governatore della Campania, lezioni a distanza fino al 30 ottobre in Campania, l'ira di Azzolina alla Ministra, oggi possibili chiusure anche lì in Lombardia e poi numeri, 8804 i contagi, 83 i morti. E poi Valentino Rossi e la Pellegrini, positivi, le annunciano in lacrime, Ronaldo, polemica tra Spadafore, il Ministro dello Sport e la Juventus. Anche qui sulla prima pagina di Repubblica troviamo la condanna per Profumo e Viola, gli ex manager di Monte Paschi di Siena, condannati a sei anni. E poi c'è una bella intervista, una lunga intervista, due pagine, al Otaiba, tutti i segreti degli accordi di Abramo. Lo sapete, è stato uno storico accordo, quello siglato a settembre alla Casa Bianca, tra gli Emirati Arabi, il Bahrain e Israele. E in questa intervista appunto che ha concesso al direttore Maurizio Molinari si parla proprio dei retroscena di questo accordo così importante. La stampa, il virus circola, le regioni chiudono, mancano i tamponi, riaprono i reparti dedicati, la campagna blocca le elezioni, dieci governatori verso il lockdown, il Covid. Ecco qui le due fotonotizie, Pellegrini e Rossi. Vediamo ancora un altro giornale, il messaggero. Natale a rischio, lockdown alle imprese, meglio subito gli imprenditori, servono chiusure selettive, stop a dicembre disastroso, questo è ovviamente quello che nessuno si augura. Raddoppiano i morti, a Milano indice RTA2, il tracciamento va in crisi. E poi quest'altra notizia sulla manovra, addio alle microtasse su patente atti, licenziamenti. Questo è un altro tema che vedremo è stato affrontato in maniera importante sui giornali. Il blocco resterà in vigore per le aziende che utilizzano cassa integrazione e sgravi. Questo è il messaggero. Allora vediamo il sole 24 ore. L'emergenza sanitaria ipoteca a metà dei fondi, Conte cerca la sintesi e poi in alto edilizia lo smart working della pubblica amministrazione blocca fino al 30% dei permessi. E sotto la notizia del Covid quasi 9.000 nuovi contagiati, mercati giù per i timori di lockdown. Il fatto quotidiano, 15 giorni per sapere o funziona o si chiude. I numeri, 8.000 contagi, 83 morti, ospedali pieni a Milano e in Campania che ferma già le scuole. Il giornale enfatizza ancora di più aria di coprifuoco, più contagio e più morti. Il governo pensa di seguire la Francia, lo sapete dall'altro giorno, l'ha annunciato il Presidente Macron parlando alla nazione, è stato imposto per così dire il coprifuoco. Insomma poi questa espressione che non ci piace troppo perché ci ricorda un po' la guerra, anche se stiamo combattendo una battaglia dura contro la pandemia. Comunque tutto chiuso dalle 21. E poi Campania stoppa le scuole, ira del ministro, anche la Lombardia pronta a un giro di vite. E poi ancora ricordo di Iole Santelli, donna e guerriera. Vediamo Libero come apre, niente panico, la scuola va a basso il numero di contagiati in aula perché vi ricordo la ministra Azzolina ha detto guardate che è lo 0,080% i positivi che sono stati riscontrati tra gli studenti. 7,6 minuti, subito linea la regia e ritorniamo e leggiamo insieme le altre pagine. Vi aspettiamo. 7,11 minuti ben ritrovati. Allora completiamo il titolo di apertura del giornale Libero, niente panico, la scuola va. La Campania chiude gli istituti fino al 30 ottobre, pure solo lo 0,08% degli studenti e lo 0,13% degli insegnanti è positivo. Giusto stare attenti, non darsi la zappa sui piedi e bloccare tutto. Grazie a Mattarella, niente polizia in casa. Valentino Rossi e la Pellegrini infetti. Questo era il titolo che dobbiamo completare di Libero. Vediamo il manifesto. Licenziamenti, governo con Bonomi, la protesta dei sindacati inaccettabile, il blocco va mantenuto per tutta l'emergenza. La foto, il grande balzo, record di contagi raddoppio dei decessi, oltre 160.000 tamponi, l'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme, l'epidemia è ora in una fase acuta, picco di positivi a Milano, 7 delle regioni più colpite, la Campania chiude le scuole per 15 giorni, Azzolina contro De Luca. Vediamo il riformista, dedica la foto a Iole Santelli, la governatrice che amava il diritto alla Calabria, è morta, ma è morta perché era da tempo malata. Pena di morte, cutola in fin di vita, il Tribunale deve morire in galera. Questa è l'apertura decisa dal direttore del riformista Piero Sanzonetti. Poi c'è un'intervista a Piero Fassino, lo vedete qui in basso a destra, a sciogliere il PD, la provocazione di Bertinotti merita attenzione. Questo è il riformista, vediamo la verità. Conte accusa gli italiani sul virus e va a prendere ordine a Bruxelles, vergognoso, ritardo su tamponi, rianimazione e trasporti. Maurizio Belpietro titola il suo editoriale, lo dedica per così dire, ma insomma non usa i guanti, a Piercarlo Padoan che è stato indicato come prossimo presidente di Unicredit e insomma nel suo commento ci spiega quali sono le critiche che gli riserva. E poi vediamo avvenire. La lezione è sbagliata, in Campania De Luca sceglie la scorciatoia e chiude tutte le scuole, feste, solo tra familiari conviventi, crescono ancora. I positivi preoccupano i dati di Milano, Mattarella, responsabilità senza egoismi. Si occupa però di una notizia che troviamo soltanto su Avvenire, Olanda shock, eutanasia sotto i 12 anni. Questa era l'apertura di Avvenire. Chiudiamo le prime pagine con il mattino quotidiano di Napoli, lo sapete la Campania anche al centro molto dell'attenzione, scuole feste, lo stop di De Luca, boom di contagi e poi didattica a distanza anche all'università. Fino al 30 ottobre chiusi gli asili, le cerimonie solo con i conviventi. Ad Arzano però, parliamo dell'interna napoletano, proprio barricate anti-lockdown, cioè ci sono soprattutto i negozianti che si oppongono a questa chiusura tra le misure appunto previste per contenere questa seconda ondata. Andiamo subito a vedere le pagine interne dei giornali di che cosa si occupano. Naturalmente il tema è dominante e allora voglio partire dal Correa della Sera perché Monica Guersoni ci aiuta un po' a capire quello che è successo. L'avete visto nella foto, ieri Conte ha partecipato al Consiglio europeo di Bruxelles, si è parlato di molte cose, naturalmente si doveva parlare di recovery fund, di Brexit e di altri temi economici e finanziari, ma naturalmente in agenda si è parlato anche del Covid. E allora vediamo che cosa ci svela la Guersoni. Nelle conversazioni riservate, a margine del Consiglio europeo, il capo dell'esecutivo, cioè Conte, non ha fatto che ripeterlo. Chiudere tutto sarebbe troppo dannoso, proprio adesso che l'economia mostra segni di ripresa. Conte è completamente contrario e non vuole prendere in considerazione nemmeno l'ipotesi di una chiusura di 15 giorni per far respirare il Servizio Sanitario Nazionale. Una cosa che non esiste, avrebbe detto. Dobbiamo aspettare due o tre settimane per capire gli effetti delle misure attuali, dalla mascherina all'aperta al limite di sei ospiti a casa. Ragionando con scienziati, collaboratori e ministri, il Premier si è però convinto a soppesare altre regole restrittive sulla falsariga delle norme adottate in Francia. Il coprifuoco è una cosa che si sta valutando, ammettono a Palazzo Chigi, dove stanno arrivando molte pressioni dai cittadini per fermare quel che resta della movida, cioè la vita notturna. Domani si riunirà il Consiglio dei Ministri e se l'idea supererà le resistenze della parte più cauta del Governo. Un nuovo provvedimento potrebbe imporre a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 22 e ai cittadini di uscire di casa oltre quell'ora. A me questa misura non risulta, frena però il Ministro della Salute e Speranza. Questa è la ricostruzione, tra l'altro, fatta dalla Guerzoni. Ma andiamo ancora a vedere perché? Perché si è parlato nelle ultime ore, commentando la curva in risalita dei positivi, si è voluta raffrontarla con il 21 marzo. Il 21 marzo è stata una giornata veramente drammatica per il nostro Paese. Sempre qui sul Corriere della Sera vengono messi a confronto i dati di queste due giornate, del 14 ottobre, naturalmente ci si riferisce due giorni fa del 21 marzo. Il 21 marzo i contagi erano 6.557 e due giorni fa 7.332, però guardate il numero dei tamponi, 26.336 il 21 marzo e 152.196 e questo poi ci ha dato la percentuale, il 25% dei positivi risultati ai tamponi, invece il 4 e 8 due giorni fa. le vittime 793 e 43, poi ieri abbiamo visto sono diventate 83, la letalità 7.8 e 0.3, ricoverati con sintomi 17.708, 5.470 il 14 ottobre, 2.857 il 21 marzo, 539 invece il due giorni fa, il 14 ottobre. Questo per dare però un quadro un po' più chiaro di cosa sta accadendo e soprattutto del fatto di chi voleva raffrontare questa giornata con il 21 marzo. La prima delle interviste che abbiamo è a Locatelli, Locatelli lo sapete è un componente del Comitato Tecnico Scientifico ed è anche il Presidente del Consiglio Superiore di Senità, quindi direi una persona più che competente. E allora vediamo due domande rapidamente, cioè stiamo andando verso un nuovo lockdown di Natale, molti giornali lo avete visto, titolano da due giorni così e risponde non ritengo vi siano elementi che possano indirizzarci a prevedere un prossimo nuovo lockdown, cioè una chiusura totale, né tantomeno un lockdown da realizzarsi in un tempo così definito, ma ancora relativamente lontano, quale le festività natalizie. Dice, siamo ancora in tempo per invertire la marcia? Sì, siamo certamente in tempo ma dipende come i singoli cittadini insieme come Paese siamo disposti a fare perché questo possa avvenire, quindi fondamentale che tutti, nessuno escluso, facciano quanto è nelle proprie possibilità per limitare la diffusione del virus. E parla di trasporti, torna a parlare ancora di trasporti, hanno favorito la crescita dell'epidemia? I mezzi di trasporto, soprattutto in alcune ore del giorno, certamente rappresentano un potenziale luogo dove possono formarsi assembramenti da evitarsi nel modo più assoluto. Questa è la raccomandazione che fa Locatelli. Voglio prendervi però, perché continuiamo a parlare di trasporti, lo facciamo con Amiozzo che è intervistato da Repubblica, a pagina 7, è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Allora, a leggere bene queste interviste, lui qualche suggerimento che è un po' scontato, lo dà, ci domandiamo perché non è stato adottato. Allora, 8.800 nuovi casi positivi, partiamo per capire l'esplosione di metà ottobre. Partiamo dai trasporti e guardiamo in faccia il problema. A scuola, noi siamo convinti, i ragazzi sono sicuri, per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non dobbiamo togliere studenti dalle classi e mandarli alle lezioni da casa, ma aumentare il servizio di trasporto. È possibile, dice. Lo diciamo da aprile, c'è traccia nei verbali, abbiamo migliaia di mezzi fermi per il crollo del turismo e non li riutilizziamo per gli spostamenti urbani e regionali. Perché? Dice, poi gli scaglionamenti all'ingresso, le differenze di orario. Dice, i tecnici del comitato scientifico hanno preparato tabelle sui flussi precise al secondo, l'ingresso in fabbrica degli operai, l'entrata degli studenti, poi la pubblica amministrazione. Mi chiedo per quale motivo nessun mobility manager delle grandi città abbia preso in mano queste tabelle per costruire un orario compatibile per tutti, senza incroci, senza affollamenti. Le uscite della metropolitana con i pendolari gomito a gomito sono questioni di mezz'ora sbagliate, non di più. Solo che basta mezz'ora di assembramenti per far girare il virus. E noi giriamo questi suggerimenti, queste interviste a chi di competenza. Insomma, noi avevamo il dovere di segnalarlo. Continuiamo a leggere però qualche intervista da parte di esperti. Ce n'è una a Pregliasco. Solo scuola e lavoro, tutti gli altri impegni, dice, dovrebbero essere annullati. Soprattutto, poi parla della Lombardia. Dice, paghiamo la riapertura dagli uffici alla scuola, ma anche i primi sbalzi termici e la coda di un turismo estivo fin troppo forse nato. Ma mi creda, la situazione è diversa da prima. Sembra di vedere un brutto film. Dice, ogni giorno riusciamo a fare più tamponi. Ieri sono in Lombardia, il record è di 32.500. Più positivi troviamo, meno consentiamo di contagiare. Con questa frequenza di test in primavera i numeri giornalieri sarebbero stati da moltiplicare per 10. Questo è quanto dice Pregliasco. E allora, parlando di Lombardia, c'è un'intervista al sindaco di Bergamo, Gori. L'incubo non è finito. Dice, ma ora la mia Bergamo è pronta e consapevole. Dice, non avete più paura, sindaco? Il punto è che non è affatto finita. Lo sapevamo che con il freddo il virus sarebbe tornato, ma in cuor nostro speravamo che non accadesse così. E sta succedendo con una velocità simile a quella della primavera. Così ogni giorno siamo costretti ad aggiornare consapevolezze e preoccupazioni. Però c'è una differenza. Dice quale? Se oggi Bergamo assiste a una avanzata del contagio, che non ha paragoni con i numeri di sette mesi fa, è perché da noi, e così a Brescia e Lodi, il virus incontra una popolazione che circa per il 30% è già stata colpita e ha sviluppato degli anticorpi che, credo, rallentino la sua diffusione. Così, Gori, velocemente, c'era un altro tema che non abbiamo il tempo di affrontare, è quello dei licenziamenti. Rivolgono al ricenziale per colpire poi salari. La campagna di Confindustria via al blocco dei licenziamenti a gennaio. Questa è l'apertura del fatto. E allora, 7.21 minuti e 30 secondi, linea Paolo Sottocorona. Io dico solo che piove a Roma. A te il resto. Dicci come va. Buongiorno. Piove non significa in quel gergo un po' del segno degli anni 60 che sta arrivando la polizia. Piove, piove ancora. Diciamo che rispetto a ieri il passo, il miglioramento è stato piuttosto deciso, direi, perché se andiamo a vedere ci sono molte nuvole, ma sono tutte sul medio scuro, cioè non sono intense, non danno fenomeni intensi. Tuttavia sul Lazio ci sono piogge, sulla Toscana ci sono piogge, sulla Lombardia ci sono piogge, altre, deboli, in giro. Quindi qualcosa c'è. Questo miglioramento continua? Sì e no. E adesso vediamo subito il perché di questa definizione un po' poco decisa. Prima parte della giornata di oggi, la presenza di queste piogge in prevalenza deboli, moderata qualcuna sul Lazio, che già direi che c'è stata questa mattina. Vediamo la seconda parte, migliora un po' al nord, perché al nord diventano più difficili le piogge, o comunque debolissime, mentre invece vedete che sul medio versante tirrenico, Lazio, Campania, Calabria, in parte anche le Marche, la possibilità di qualche pioggia rimane. Quindi è un miglioramento, ma non è che vada via tutto. E soprattutto, andando a vedere la giornata di domani, troviamo di nuovo qualche debole pioggia al nord, soprattutto sul Veneto, parte del Trentino Alto Adige, poi la Liguria. Al centro sono molto isolate, però per esempio in Sardegna deboli, ma sono estese, cioè sono comunque presenti. E poi fra Campania e Calabria è una zona in cui le piogge possono anche essere moderate. Quindi vedete il miglioramento c'è stato, ci sarà ancora un poco, ma non è che vada via tutto. E domenica rimane soprattutto al sud la possibilità di piogge in prevalenza deboli, anche in questo caso le schiarite si affacciano fra nord e centro, ma vedete che qualche piccola macchia verde, non si smacchia del tutto, quindi rimane la possibilità di qualche debole pioggia. Le temperature di questa mattina riscese abbastanza rapidamente come si sono fermati i venti meridionali che le avevano fatte risalire bruscamente ieri, quindi questo salto fra un giorno e l'altro di 5, 6, 7 gradi, insomma non è che sia poi così salutare. E comunque al nord rimangono basse, su buona parte del centro ritornano basse, perché anche le parti in giallo poi in realtà sono appena sopra i 10, ieri mattina ce ne erano 17-18 gradi, quindi insomma ballano molto come si dice e per chiudere lo stato dei mari l'Adriatico abbastanza tranquillo, gli altri da mossi a molto mossi, soltanto a largo sul mare di Corsica e Sardegna si arriva a livello di agitato, che prevede comunque onde intorno ai 4 metri per avere un'idea. Se volete prossimo appuntamento subito prima delle 7 e 55, prima di allora il programma è pubblicità, prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio e viabilità. Ci avete proprio tutto.